Ciao, nuovo video, un video abbastanza veloce, in collaborazione con il gruppo di Katie Chantos, un bacio a tutte, i 10 prodotti che utilizzo ogni giorno, io non ne ho 10, ne ho 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ma ne ho direttamente al dunque. Sicuramente uno dei prodotti che utilizzo ogni giorno è questo fondotinta, l'Universal Fit di Kiko, che questo è il numero 30 Warm Beige, e lo utilizzo ogni giorno, infatti è quasi finito. Poi, una cosa che io non posso proprio farne a meno, e finora è l'unico con cui mi sono trovata veramente bene, è questo deodorante di Dove al cetriolo. Ho provato mille deodoranti nella mia vita, ma finora lui è l'unico che amo davvero, adorabile, non riesco a farne a meno, mi trovo veramente troppo bene con lui. Poi, questo altro che infatti è abbastanza massacrato, poverino, ha subito veramente qualunque cosa, è questo rossetto che praticamente utilizzo ogni giorno di Kiko della linea Unlimited Stilo, che è il numero 07 Cherry, se non sbaglio si chiama, lo uso un sacco, infatti era quasi finito e dovevo ricomprarlo, e lo uso abbinato a questa matita di Lord & Berry, che infatti è quasi finita, anche questa, che era la Sunset, e mi sono trovata veramente troppo bene con questa matita Abra, e l'ho usata tantissimo, sempre associata al Limite del Stilo di Kiko. Poi, la Cipria Hollywood di Neve, che mi piace un sacco, e fra tutte le ciprie, finora la Hollywood è quella con cui mi sono trovata meglio, e questa qua vabbè è la Mini Size, ma dovrò comprare quella grande. Poi, sempre di Kiko, l'ombretto nero, perché io lo uso nella rima interna, perché la matita non mi dura niente, invece l'ombretto di Kiko, che questo è il 180 nero, lo uso un sacco, tantissimo, e mi sono sempre trovata molto bene con questo, lo uso ogni giorno. E infine, e questa la uso veramente da poco, questa spazzola di Lily Island, fra poco la troverete, troverete una recensione sul mio canale, è molto molto buona, da provare, ma ne sarebbero di più prossimamente. Io vi ringrazio per aver visto questo video alla velocità della luce, noi ci vediamo al prossimo, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, e vi mando un bacio, ciao!